ciao a tutti oggi vi propongo i peperoni ripieni in forno a microonde ci vorrà pochissimo come sempre per prepararli se il video vi è piaciuto un bel like se vi va iscrivetevi e condividete ciao per questa ricetta sono indispensabili i peperoni nel mio caso corno di bue 200 g di ricottine 150 g di cacciotta due presine di sale un uovo e infine dell'olio extravergine di oliva laviamo esteriormente il peperone e qui possiamo decidere se pelarlo con un pela patate oppure tenere la buccia come nel mio caso quindi tagliamo all'estremità lo svuotiamo poi lo laviamo bene bene e lo asciughiamo altrettanto bene e prepariamo di conseguenza la crema aggiungiamo alle ricottine dell'olio non tutto una parte la useremo dopo poi la cacciottina una presina o due di sale e l'uovo mescoliamo e versiamo in una sacca da pasticcere che ci servirà per riempire meglio i nostri peperoni quindi andiamo a riempirli e se vogliamo all'estremità possiamo spolverizzare del pangrattato quindi li poniamo sul piatto crisp e andiamo in forno microonde con funzione crisp per 8 minuti allo scadere dei quali estrarremo il piatto crisp dal microonde e quindi andremo a girare i peperoni torniamo quindi microonde per 8 minuti con funzione crisp e poi lasciamo riposare in forno spento i peperoni ricotti in un piatto d'antipasto adagiamo il peperone ripieno e quindi con l'olio rimanente possiamo creare la guarnizione aggiungere delle olive nere e quindi terminare con della melissa o del basilico o della mentuccia fresca il piatto si serve a temperatura ambiente ideale per i picnic ciao 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 ciao